Oma aria rimu' l'uva ... ... ... ... Ma che è 20 ribu? No, no. È tutto, ragazzi. Seti a fare 20 ribu, si è capace di fare 6-6 ribi, sono più 500 ribus. Segui 20 ribu è l'anima. 20 ribu di 2. Allora, quando stagano in una corsa, si mangia una corsa. Si mangia una corsa, una copia, non si mangia una corsa. Due a la corsa, come si viene a fare il lavoro? Ma quando si viene a fare il lavoro di casa? Non sono le vieno. Come si vieno a fare il lavoro di casa. La mia è stata in lavoro che i miei sono i miei di casa. Non c'è che si vieno a fare il lavoro. Ma cosa si vieno a fare il lavoro? E' quello che vieno al lavoro. Si vieno a fare il lavoro? Non, non ti senti? Non ti senti, non ti senti? non voglio mi niente tu un bene perché tu non c'è una低ore no, non la cosa c'è di cui non c'è io non incitissimo si parla, peta di meno il 2 si sadenà il tuo non c'è quindi io ne sono ma così sono però abbiamo messi tutto il riguardo non è che se capire quanto riguarda le viderio io, a scena afferminare la bandiera ma non sono faturato la prima cosa che vuole lui è ora quando vuole come vuole si vuole vuole? non è che quando vuole vuole quando avere fatto l'anno si vuole se vuole anche ancora viandsse come i i i sono 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 io sono Avete. Voi, non ci sono pure. Un'altra parte da parte di un'arico. Non c'è nulla. Ma, cosa cosa non? Non ci sono paura. Si, sai? No, sai. Non ci sono. Non ci sono. Ma dove andiamo? No. Ma vediamo? C'è la prima cosa. E' un'altra un'altra parte. Come and come and go and buy. Quando abbiamo fatto la scola, ne abbiamo capito che là. Ci sono fatto che per l'argomento quando abbiamo avuto il nostro bambino, non c'è l'argomento. Ci sono vedi che sono l'argomento. Oggi, non c'è l'argomento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.